ai tempi che berta filava viveva un povero pescatore con tre figlie da marito giro di re fiabe leggende della tradizione popolare italiana narrate da maurizio mosetti buon ascolto l'uomo che usciva solo di notte ai tempi che berta filava viveva un povero pescatore con tre figlie da marito c'era un giovane che ne voleva in moglie una ma era uno che usciva solo di notte e la gente non se ne fidava così la maggiore non lo volle per marito e la seconda nemmeno invece la terza accettò le nozze si fecero di notte e appena furono soli lo sposo le disse devo dirti un segreto sono stato stregato e la mia condanna è essere tartaruga durante il giorno e tornare uomo solo di notte da questa condanna posso liberarmi solo in un modo devo lasciare mia moglie subito dopo le nozze e fare il giro del mondo di notte come uomo e di giorno come tartaruga se tornato dal giro del mondo troverò mia moglie che mi è rimasta fedele e ha sopportato ogni disavventura per amor mio ridiventerò un uomo per sempre sono pronta disse la sposa lo sposo le infilò al dito un anello con un diamante in tutte le occasioni questo anello ti servirà se saprai usarlo per il bene era venuto giorno e lo sposo si trasformò in tartaruga e con il suo lento passo partì per il giro del mondo la sposa andò a girare per la città per trovare un lavoro incontrò un bambino che piangeva e disse alla madre datelo in braccio a me che lo farò tacere brava sareste a farlo tacere disse la madre è tutto il giorno che piange per la virtù del diamante disse la sposa che il bambino rida balli e salti e il bambino si mise a ridere ballare e saltare poi entrò in una bottega di panettiere e disse alla padrona prendetemi a lavorare con voi e non ve ne pentirete la presero a lavorare e lei si mise a fare il pane e disse per la virtù del diamante che tutti vengano a comprare il pane in questa bottega finché ci lavorerò io cominciò un andi rivieni nella bottega che non finiva più vennero anche tre giovanotti che vista la bella sposa si innamorarono di lei se mi lasci passare una notte nella tua stanza le disse uno dei tre ti do mille franchi e io disse l'altro te ne do duemila e io tre disse il terzo lei si fece dare i tremila franchi dal terzo e la sera lo fece entrare di nascosto in bottega aspetta un momento gli disse che metto il lievito nella farina anzi fammi questo piacere mettiti tu un momento ad impastare l'uomo si mise ad impastare e impasta 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 per la virtù del diamante non poté togliere le braccia dalla pasta e continuò ad impastare fino a giorno beh finalmente è finito gli disse lei ce ne è messo di tempo e lo cacciò via poi disse di sì a quello dei duemila franchi lo fece entrare appena buio e gli disse di soffiare un momento sul fuoco se non si spegneva lui soffia sul fuoco soffia sul fuoco per la virtù del diamante continuò a soffiare sul fuoco gonfi in faccia come un otre fino alla mattina dopo che modo di fare gli disse lei alla mattina vieni a trovare me e passi la notte a soffiare nel fuoco e lo cacciò via la sera dopo fece entrare quello dei mille franchi io devo mettere il lievito gli disse intanto tu vai a chiudere la porta l'uomo chiude la porta e per virtù del diamante la porta si riapre richiudi e riapri passò la notte e venne il mattino lei chiusa questa porta finalmente beh adesso riaprila e vattene i tre uomini carichi di rabbia andarono a denunciarla a quel tempo oltre gli sbirri c'erano anche le donne sbirro che servivano per quando c'era da arrestare una donna così quattro donne sbirro andarono per arrestare la sposa per virtù del diamante disse la sposa che queste donne si piglino a schiaffi fino a domattina e le quattro donne sbirro presero a tirarsi manrovesci l'un l'altra da gonfiarsi la faccia di due dita ogni volta vedendo che non tornavano le quattro donne sbirro con l'arrestata furono mandati quattro sbirri a cercarle la sposa li vide arrivare e dice per la virtù del diamante che questi uomini si mettano a saltare alla cavallina e sull'istante uno degli sbirri si abbassò con la schiena un altro gli puntò le mani sulla schiena e saltò e gli altri col suo passo trotterellante ecco chi arriva una tartaruga era il marito che tornava dal giro del mondo e ritrovando la moglie tac ridiventò un bel giovane e tale rimase accanto a lei fino a tarda età giro di re fiabe leggende della tradizione popolare italiana grazie a tutti